e se ne va sul lato di destra 3 contro 2 1 2 bellissimo è il numero 10 e 11 e mette in mezzo per la conclusione e la rete di francesco potenza che porta in vantaggio i padroni di casa al venticinquesimo del secondo tempo tutto pronto per il calcio di punizione fischia l'arbitro in corsa la conclusione di pacchi arotti trova il pareggio per l'aurelio e dunque 1 a 1 a 10 minuti dalla fine per ventura poi il lancio in profondità sbaglia è uno contro uno zingaretti che va la conclusione la palla resta lì per la rete del 2 a 1 dell'ottavia che si riporta in vantaggio a pochissimi minuti dalla fine zingaretti contro di clemente parte il numero 11 e spiazza il portiere avversario 3 a 1 e partita che finisce qui